Centinaia di persone a Kiev hanno reso omaggio alla salma di Pavel Sheremet, ucciso da una bomba mentre era alla guida della sua auto nel centro della capitale. Il giornalista russo, di origine bielorussa, che viveva in Ucraina da quattro anni, diceva di essere in viso sia a Mosca sia a Kiev. Le autorità ucraine hanno promesso un'indagine approfondita, ma al momento non hanno avanzato ipotesi sul movente dell'omicidio. Sheremet sarà sepolto a Minsk.